Per celebrare la prossima inaugurazione della nuova tratta ferroviaria binario doppio fra Andorra e San Lorenzo al Mare, le ferrovie hanno fatto transitare questa mattina un convoglio storico risaliente agli anni 60, 70 e 80 proveniente dal Museo Storico Ferroviario. Il treno storico ha fatto tappare le stazioni interessate dal raddoppio spostamento a monte della strada ferrata fra cui Imperia Oneglia attirando l'attenzione di molti curiosi e appassionati che hanno potuto ammirare e in alcuni casi anche ricordare carrozze di epoche diverse che hanno fatto la storia della ferrovia italiana.